Eeeh what's up a tutti c'è ormai benvenuti ragi carini in questo nuovissimo episodio su Oxenfree Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno i 20 like per questo nuovo video Ed eccoci qua di ritorno raga dopo che la volta scorsa abbiamo visto veramente delle brutte brutte cose Succedere a Clarissa della quale sembrerebbe non esserci più traccia quindi non abbiamo una minima idea di che fine abbia fatto Adesso non ci resta che tornare alla torre di controllo per vedere se almeno Ren è riuscito ad arrivare lì Per cui non ci resta che and... aspetta non so se devo andare più giù o no Devo andare comunque qua verso sinistra perché allora nella mappa vedete benissimo che mi indica tipo di andare verso il basso Però noi intanto andiamo verso sinistra sperando che non succeda nient'altro di troppo paranormale Andiamo verso i campi della visione come caspita si chiamano Non mi fate vedere foto strane per favore perché non so proprio in vena eh Continuo a sperare che oggi non succeda niente di troppo... inquietante, spaventoso, orribile Andiamo al punto rincontro Ok La torre di Cazzo è da questa parte ragazzi Andiamo alla torre di controllo, perfetto Il tragitto non è stato poi troppo lungo Mi chiedo che cosa succederà da ora in avanti raga perché le cose cioè qua peggiorano di volta in volta Cioè succede ogni volta una cosa più brutta Ehi! Ren! Sei a posto! Buona notizia! Niente di nuovo, niente di gay Eh, ci verrebbe anche qualcosa Simpatico Bene, andiamo verso la torre allora Ancora? Sei impazzito? Sì, però dimmi che stai scherzando Madre mia Cioè è un fattone Eh ragazzo, tu non stai bene Non posso crederci Eh, infatti Madonna raga, questo non scherza quando si tratta di farsi eh Madre mia Madre mia Ma in che mani siamo? C'è credo che la radio non ha funzionato Di sicuro non eri tanto lucido da capire come farla funzionare Eh, poi Nona Spero che non abbia seguito le tue orme Che non abbia assaggiato nemmeno una bricciolina Nei tuoi brownie magici Da schifo Eccola la E là sopra Che osserva l'orizzonte in maniera estremamente Pensierosa e romantica Eccola Ciao Eh, ciao Ha detto di noga non funziona Siamo proprio di no Su qualcosa nella grotta Ecco, non volevo dirlo Che cosa Perché non l'hai detto prima? Villo a noi e tu non hai visto presenze strane Quale altro piano abbiamo? Effettivamente Nessuno Non sappiamo dove sia Clarissa Non lo sappiamo dove sia effettivamente Bene Ma non ci sono Renn Vieni 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 Inizial Nella grotta Sì Infasti Cioè C'è Cioè Non sto mettendo la mia vita nelle mani Questa cosa è stato un gioco per questo ragazzo Non so nemmeno di che state discutendo Ok raga la situazione si è fatta pesante Perché i due stanno litigando Uno vuole fare una cosa L'altro non si fida Perché pensa che sia strafatto Cosa che effettivamente è Che piano possiamo seguire Che alternativa abbiamo Io direi si ovvio a sto punto Sembra che non voglio stare Che situazione imbarazzante Continuo a premere per sbaglio L1 Ogni volta Zitti tutti e due Madre mia No 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 Ren Devi calmarti eh Perché sei nervosissima Ecco adesso sei la pure presa Ma Vabbè raga io me ne vado Che cosa che Trova la chiave del cancello Dobbiamo tornare giù 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 ragazzi Quindi andare Sulla strada principale appunto Main street Ragazzi siete insopportabili Veramente Cioè è stata una situazione davvero Al limite eh Perché da una parte c'è il nostro migliore amico Dall'altra c'è il nostro fratellastro Che nemmeno comunque magari vogliamo offendere Per sentire una merda Cosa che è successa Cioè Come si deve comportare una persona Non lo so Ren Non ti azzardare adesso a riparlare di sta situazione Perché ti mando a quel paese La volta buona La risa continua ad essere sparita Non ho la minima idea di dove possa essersi volatilizzata Non so se i fantasmi l'han portata con loro In un'altra dimensione Non lo so Abbiamo assistito a scene raccapriccianti Vabbè Non ci resta che Andare a trovare sta cavolo di chiave Di sta cavolo di barca E vedere che succede Non so quanto appunto questo possa essere una buona idea Però Non è che abbiamo molte alternative Ragazzi Perfetto Non ci resta che Pa 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 ra pa ra Sì Andare ai campi della visione Vabbè Tanto possiamo andare solo lì qua Che genio che sono Soltanto nell'appo Potevamo andare Ah Dai zitto un attimo Te prego Allora ragazzi Non è ai boschi del pipilo Che vogliamo andare Effettivamente È un po' provato È un po' provato a volte Applausibile Mi sembra questa Per cui Anche se qua c'è una porta Che è assolutamente inquietante Che chissà dove Dove conduce Però Insomma poco ci importa No Continuiamo a scendere La musica si è fatta Un pochettino Più intensa Comunque Comunque i scenari Sono veramente Molto belli Ragazzi a volte Ok Direi che siamo arrivati Più in fondo di tutto Se non sbaglio E non ci resta Che andare a sinistra Almeno mi auguro Che strano Che Renzi È così silenzioso Di solito Minchiano a smettere Di parlare in secondo Ok Vediamo cosa ci dicono Queste indicazioni Scogliere della scoperta Sì È di qua che dobbiamo andare Ragazzi Questa casa è estremamente Inquietante Ma fa niente Andiamo Verso le scogliere Della scoperta Del mistero E chi c'è qua Allora Qua che cosa abbiamo Possiamo aprirlo A questo posto Sembrerebbe proprio di no Non ci vogliamo far interagire Più a sinistra ancora Per le scogliere Della scoperta Procediamo Verso questa direzione Vediamo il cartello Che cosa dice Main street È proprio lì che dobbiamo andare Perfetto Che in questo caso Ci abbiamo messo un pochettino Insomma A percorrere tutto lo scenario Però Poco importa L'importante è arrivare Anche se alcuni dicono Che a volte è importante Il viaggio Secondo voi ragazzi È importante arrivare O è importante Il viaggio Spero che il tuo piano funzioni Figlio mio Funzionerà Funzionerà Sì sì Vabbè E da qua ci ricordiamo Che siamo scesi all'inizio Per cui Continuiamo Ad andare a sinistra Come ci indica il cartello Dobbiamo andare su main street E vediamo Dove riusciamo a trovare Sta benedetta chiave Effettivamente Sì 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 Questo qua è tutto il percorso Che abbiamo fatto A inizio gioco Che ci fai sopra un'altra Che ci fai sopra un'altra C'è ogni volta Odio quando succede Perché continuano Sì lo so Lo so È quello che sto cercando Di fare Aspetta Minchia raga Ci proverò Zitto Ok il primo c'è Troviamo il secondo Eccolo là Che I'm ready I'm ready I'm trying to help you This is This is Help me Help me How will that help me I was looking forward to seeing you Yes I was looking forward to seeing you Yes I'm looking forward to seeing you Something like this It's helping the others Ren and Nona They've gone through the same Gone through what They're children They've gone through nothing When you're off The little machine has no more heart than a brain You have heart Ah Cos'è stato Oh man Ren What was What was all that about I am really the wrong person To ask that Clarissa Are you alright Madre mia Steady Just Take it easy I'm fine I can I'm fine Ti ricordi che è successo? Ti ricordi di Milie? Non ho idea You remember that part at least right? Being up on the thing? The usual answer to any question tonight has been I have no idea And sorry to say but this is no different You really don't remember anything? No I remember something I remember you With that radio And I remember feeling like you Were the reason all of this was happening Wait It's Clarissa's turn already? Yeah It's my turn What do you mean It's Clarissa's turn already? I haven't even asked What's going on? Everyone is asking me I get to do the asking now Wait What's going on? We're back at the But why the follow is here? It's Clarissa's turn? Yeah It's Clarissa's turn And you of all people Should know what my question is going to be Because I'm not going to waste it Alex What did you do? Explain why me and my best friend And your idiot best friend And I said Please don't draw a chalk line here Don't make factions Just We have to stick together If we're going to make it through this Jonas Now you're seeing Who you're stuck to Until graduation Clarissa Seriously I can vouch for this This isn't her fault It has to be her fault Of course it's her fault But why? There's no other way This story Why? Why does it have to be my fault? Why does it have to be your fault? Are you kidding? Come on Clarissa Let's not do this right now You're going to learn Jonas I swear to God The town looks at her Like she has a red letter Tattooed on her freaking forehead And the giant Lit up Christmas tree Reason why Is that Michael Is that Michael is dead Because of her Oddio Ma di che stai parlando? It's a very sick person To see it that way And I would love to hear the explanation Michael was going to leave town He was free He was out of here Until this one Convincing him to take her swimming For one last God knows what And he drowned He drowned in Hornlake While this one Could barely flap her arms Non posso dire Che sia colpa mia It wasn't my fault Anyone could have been there Anyone And then they Would have had to watch him die You unbelievable prick Anyone wouldn't have watched him die Alex Anyone else Would have done something Okay I'm not listening to this anymore I can't even believe We're talking about this right now It's terrible Zitta It was awful All right It's still awful And I You don't have to convince me of anything Alex Believe me Now we're going to break into that office So we're going to find the damn key And we're going to go home No 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 What are you doing? Oh Oh Boy I got a massive basket of Deja Vu Dumped on my head just now You ever get that? Oh I haven't had one of those Since I saw those two brown dogs Immense Constant I'm like the empress Of deja vu It's kind of been my It's kind of been like the theme Of the whole night Really I would have thought Ghost would be the theme But Okay I'll roll with it Alright The office is like Right there So Let's do it aspetta qual è l'ufficio non mi ricordo era questo qua forse questa porta qua ren via ci sono ci sono dici sui segno ok ecco fatto a posto sono convinta che sia qui bene è vero Davvero? Come funziona? Non sono... positiva, ma... sembra che ti attuali a quello che sia il segno e... questo è tutto. Davvero? Oh, guarda questo! I effetti personali di Margaret Dorothy Adler. Ah, non facciamo un casino, va? Ah, magari non dovremmo sbagliare. Non, non, non! Devemmo sbagliare! Ecco, guarda, è una lettera. Possiamo tornare. Ecco, questo è... ... Quanti fratelli? Quanti fratelli? Molta verità. Sono confusa. Sì. Ma dove dobbiamo andare? Aspettate. Ok, devo risalire là. Perfetto. È tipo un romanzo giallo, tipo signora Flecce. Ok, vabbè, non perdiamo più tempo. Ci dirigiamo, uè, verso il luogo d'interesse, insomma. Vieni, Ren, andiamo. Oltro che signora Flecce, che ci deve fare Jessica Flecce? Direi che potremmo provare ad andare qua sotto, ragazzi. Ehm, freddo? Che stai dicendo? È freddo, è vero. Il sole è un po' fuori, ma quando sei in la scuola, si trova a circa 50. No, non è. Ehi, Michael, non abbiamo portato piacere. Non abbiamo portato piacere, non abbiamo? Perchè sono qui? Perchè sono qui? No, perchè sei qui? Sei morto? Sei morto? Si è affogliato. Sì la persona è perfetta. Si, la persona è perfetta. Continuano a succedere cose strane raga Perché adesso questo? Perché? Vedere suo fratello? Perché? Non lo so raga Non lo so, sembra tutto così assurdo, così confuso La vecchia che ha scritto che ha dovuto mantenere dei segreti riguardo l'isola Non lo so 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 Stai facendo film Non lo so 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 Non lo so